Screening gratuito e prevenzione della salute. Questa è l'iniziativa intrapresa dalla consigliera regionale del PDL Bianca D'Angelo, componente della Commissione Sanità, sottoscrivendo quattro protocolli di intesa con i comuni di Vicoequense, Lettere, Agerola e Pimonte. L'iniziativa partirà lunedì 24 e si concluderà giovedì 27 settembre. Per la consigliera del PDL particolare importanza assume il dato di ripartire proprio dai monti lattari. Sono molto contenta di ripartire dai monti lattari perché è una zona dove c'è un'incidenza specialmente delle malattie tiroidee notevole. Voglio ricordare che saremo presenti con screening tiroideo e senologico e come sappiamo il 30% degli italiani soffre di disfunzioni tiroidee e in Campania abbiamo una problematica di cancro al seno, di cancro alla mammella. Abbiamo 3.000 donne che si ammalano tutti gli anni quindi puntiamo decisamente sulla prevenzione che ci dà la possibilità di intervenire in maniera tempestiva su una malattia e quindi dà una percentuale di vita molto superiore rispetto al fatto di arrivare in ritardo a una diagnosi.